Buongiorno, lei la signora? Elisa Guardalben. Ci vuole raccontare il suo progetto, la sua esperienza qui a Education 2.0? Certamente. Io sono una docente di italiano lingua seconda e il mio progetto è la realizzazione di un wiki per la didattica dell'italiano lingua seconda per studenti non italofoni in una scuola di Verona, l'Istituto Alberghiero Berti, in un laboratorio di LE2 promosso da Rete Tante Tinte. All'interno di questo laboratorio abbiamo utilizzato la piattaforma wiki che è servita per facilitare gli studenti nell'apprendimento della lingua. Il wiki è uno strumento, è un sito web che ha consentito ai ragazzi di interagire tra di loro, è uno strumento collaborativo e ne permette di valutare, di autovalutare il proprio apprendimento. L'abbiamo utilizzato in modalità blended learning, ovvero alternando lezioni faccia a faccia con lezioni a distanza, dando cioè un appuntamento agli studenti in orario che sta scolastico, in modo che il docente li potesse seguire nel lavoro a casa. Quindi dando indicazioni su eventuali task oppure caricando dei materiali di approfondimento. Questo ha dato sicurezza agli studenti che hanno apprezzato molto questa modalità di utilizzo, hanno apprezzato le audio in lingua e hanno utilizzato wiki come libero anche di ripasso, diciamo, o anche come audio libero. Sempre disponibile del resto, da casa? Esattamente, sì. Sempre disponibile, questo è uno dei punti forti di questo strumento. Inoltre un ragazzo ha detto che gli è piaciuto molto appunto il wiki perché può lavorare da casa e la prof ti vede. Lei ritiene che questo modello sia replicabile in altri contesti, cioè come possiamo trasmettere agli altri insegnanti che potrebbero essere interessati a questo modello, all'uso di questa piattaforma wiki, come possono fare per avvicinarsi a questo sistema e metterlo in pratica anche loro? Allora, il bello del wiki è proprio che è una risorsa online che è utilizzabile da tutti. Quindi io non sono un'esperta in informatica, ma sono semplicemente una docente che ha provato ad avvalersi di uno strumento tecnologico che è accessibile e che permette di interagire con i discenti che sono sempre al centro della didattica. Quindi secondo me, se dovessi dire un motto, direi che wiki è per chi wiki lo fa, ovvero è per gli studenti che lo utilizzano e che lo creano perché non è già fatto, non è un pacchetto già pronto, ma si modifica a seconda delle esigenze e degli interessi degli stessi studenti, ma è anche per i docenti, secondo me è molto utile anche per condividere il materiale. Infatti una delle cose che si potrebbero fare con il wiki è creare una piattaforma di condivisione dei materiali, di idee, di progetti, proprio per rendere la comunicazione e la condivisione più semplici. Quindi per condividere progetti didattici innovativi anche con le tecnologie che offre la rete, anche molto semplici come dice lei, con tutti gli insegnanti che possono quindi conoscere e farne tesoro. Certamente. La ringrazio moltissimo per averci raccontato la sua esperienza. Grazie a lei.